Il sonno invade un terzo delle nostre giornate. Il sonno impedisce all'uomo di vivere il tempo a sua disposizione. Senza il sonno l'uomo avrebbe avuto più tempo per sé. Senza il sonno l'uomo avrebbe potuto compiere opere grandiose. Devo creare. Devo costruire nuove opere. Il sonno è un'invenzione maligna che ci fa dormire di fronte ai problemi. Ma non per lui. Il dormitore. Un'emozionante e magistrale interpretazione che gli è valsa la candidatura all'Oscar. Un mitico e favoloso Jean-Jacques Rousseau. Con la partecipazione straordinaria del mitico Albertino Catapecchia. E del suo amico Bilbao Villafilice. In un film di Carpanni Colossimo Kappelprin, Giorcellazio. Mamma spegne la luce. Hang, c'è? fendim in un film di Carpanni un fesще qualcosa può dire wa